Buon Natale! Ah, che palle piove! Spere, con gran voglia di leggere, ma impossibilitato dal meteo, decise di usare il suo intelletto per trovare una soluzione creativa. Non ho mai fatto questa strada, puzza un po' di capra tutto quanto, quelle sono le montagne. Quello che state vedendo è il famosissimo e rinomatissimo lago di Barchis. Si trova in Friuli Venezia Giulia all'altitudine di 402 metri sul livello del mare. Barchis venne distrutta da un incendio, il non so quando, comunque dopo la seconda guerra mondiale, e venne limitato a 20 milioni di metri cubi d'acqua. È presente una centrale elettrica dal 1954 che riesce a generare 26 megavolt ampere. È profondo 45 metri e adesso lo vedete in secca perché è da quattro mesi che non piove, dice il gazzettino. Però il giorno in cui io sto registrando questa cosa è il giorno dopo in cui ho fatto le riprese. E sta piovendo di brutto, quindi mi sa che adesso sei riempito, ma non sei solo riempito. È anche straripato, moriremo tutti, anzi saremo già morti perché qua il video deve uscire tra un bel pezzo. Questa è la gilla? Assurdo. Possiamo fare le costruzioni? Uh, come siamo fatti? Qua? Oh no 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 no! Tocca la, tocca la, tocca la! Eh, l'acqua del lago di Barcis! È quello che era il lago di Barcis. Andiamo alla macchina. Opa!